in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze in modo che quando arriva e bussa gli aprano subito beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli in verità io vi dico si stringerà le vesti ai fianchi li farà mettere a tavola e passerà a servirli e se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così beati loro i padri del deserto grandi maestri spirituali dei primi secoli sostenevano che non può esserci preghiera senza vigilanza del cuore la vigilanza a sua volta va a braccetto con l'attenzione sono due atteggiamenti profondamente legati fra loro l'attenzione è l'opposto della superficialità e della distrazione perché dice la capacità di fissare lo sguardo su ciò che è essenziale e verso di esso restare in tensione e l'attesa l'attendere in latino significa tendere essere teso verso la vigilanza poi è la custodia dell'attenzione non si può essere attenti se si appesantiti assonnati se manca una sobrietà di cuore di mente in senso stretto la vigilanza è l'atteggiamento di un'anima ben sveglia presente a se stessa circospetta e attenta a non lasciarsi sorprendere dall'avversario demoniaco che cerca di introdursi nella mente nel cuore a un fratello illuso della tranquillità del suo cuore un anziano monaco rispose che solo un cuore vigilante rende possibile un discernimento della lotta il fratello continuava a dirgli io non vedo lotte nel mio cuore l'anziano gli rispose tu sei un edificio aperto da tutti i lati chiunque entra da te ne esci a proprio piacimento e tu non sai ciò che accade se tu avesse una porta se tu la chiudessi ed impedisse i cattivi pensieri di entrare allora li vedresti fermi all'esterno e combattere contro di te è richiesta nella spiritualità del deserto la porta della vigilanza per impedire ai sensi al corpo di cadere nei lacci del nemico ma guardate anche oggi la psicologia ad esempio ci indirizza verso la medesima strada qualsiasi psicologo sostiene che l'uso sregolato e maldestro dello smartphone disturba l'equilibrio mentale dei ragazzi e riduce attenzione e capacità di concentrazione sapete perché perché nel web non ci sono cornici non c'è confine tra una cosa e l'altra tutto continua in tutto e invece c'è bisogno di distinguere di separare di ordinare di avere porte finestre quindi oggi come allora è necessaria la vigilanza e l'attenzione sapete in greco attenzione si dice proso che e preghiera proseu che pensate come si somigliano non per questi padri dicevano che l'attenzione è madre della preghiera ora tornando al vangelo e concludendo il servo è beatificato da gesù proprio per questa capacità di vigilanza e attenzione è sveglio e integro subito allora aprirà il padrone che torna nel mezzo della notte e noi invece siamo così svegli